Grande emozione e felicità per i cento anni di Remo amato. Il nonnino di Ottati, conosciuto da tutti come Zio Remo, ha festeggiato il suo secolo di vita insieme ad amici, parenti e all'amministrazione comunale, che gli ha rivolto gli auguri a nome di tutta la comunità ottatese. Il primo cittadino, Elio Guadagno, ha dedicato al signor Remo parole di stima e di affetto, augurandogli di trascorrere ancora infiniti giorni insieme ai suoi concittadini, continuando a testimoniare i valori e le esperienze autentiche e rare che hanno segnato la sua vita. Per il suo centenario, Zio Remo ha ricevuto dal sindaco Guadagno anche una targa ricordo e un attestato di pubblica benemerenza per i problemi affrontati durante la Seconda Guerra Mondiale con spirito di sacrificio e amor patrio. Durante gli anni della guerra, il nocentenario di Ottati si ritrovò ad affrontare stenti, privazioni e sofferenze, senza però mai perdere la speranza in un futuro migliore.